Questo è il secondo episodio delle news Allora, è una cosa molto rapida e esplicativa perché volevo solo annunciare a tutti che oggi, molto probabilmente Hotmail andrà down per un aggiornamento in particolare per l'integrazione di ActiveSync che molti conosceranno no, non conosceranno direttamente come prodotto di Microsoft ma come funziona il dell'iPhone per quanto riguarda i bump e altre notifiche Adesso andiamo a controllare se Hotmail è ancora online Comunque, entro domani verso le 9 dovrebbe essere online il nuovo servizio Allora Hotmail Ricordo che Hotmail può essere utilizzato in qualsiasi smartphone per il momento Microsoft non ha rilasciato se servono particolari cellulari ma sembra che dovrebbero andare bene dovrebbero in linea di massima dovrebbero andare bene in tutti Allora ancora sembra che sia sì ancora è online però non si sa ancora fin quando rimarrà online Comunque quindi ricordo e ricordo che chi vedesse di posti lì in vari blog con link al download o link alla guida che dice magari intanto guardavi la guida così saprete già come configurarlo molti di quelli purtroppo Microsoft li ha temporaneamente resi non disponibili proprio perché ancora ActiveSync non è stato integrato quindi è difficile trovarlo prima del rilascio ufficiale di ActiveSync e trovare quei link attivi comunque a tentare non nuoce visto che io prima ero riuscita ad accedere alla guida ma poi sembra che Microsoft l'abbia temporaneamente rimossa o oscurata dal sito quindi quindi quando verrà rilasciato ActiveSync io tenterò di sincroni di instalarlo sul mio Samsung Wave e se si installerà vi farò vedere come funziona in linea di massima quindi